Bitterland, Turki e Episodi, Beis ha trovato l'eredità di Ilmas ma non può intascare. Qualche colpo di scena ci sarà nelle nuove puntate di Terra Amara e in programma nelle prossime settimane di trasmissione su Canale 5. La trama turca del film indica che Beis troverà la considerevole eredità di Ilmas a Kei, ma un problema burocratico gli impedisce di intascarla. Previsione della Terra dell'Amarezza, Beis vuole possedere l'eredità di Ilmas. I progressi di Terra Amara riguardo ai nuovi episodi in onda nelle prossime settimane in televisione annunciano che Beis riuscirà a scoprire dove sono nascosti i soldi di Ilmas. Tutto è iniziato quando il vecchio meccanico è morto per le ferite riportate in un tragico incidente d'auto. Le donne di colore ora avranno un obiettivo, che è quello di appropriarsi dell'intera eredità dei mariti difunti. Tuttavia, la donna riceverà un'amara sorpresa quando il suo avvocato la informerà che Ilmas ha venduto tutti i suoi beni al defunto Uncar per fuggire con Zulia in Germania. Una notizia che farà arrabbiare Beis, che convincerà Muigan che il suo avversario ha intascato tutte le carte. La verità sarà completamente diversa. Alcuni funzionari governativi impediscono al boss oscuro di prelevare denaro da Ilmas. Zulia terrà un'asta di beneficenza con la complicità di Sermin dove venderà tutti i vestiti appartenenti a Uncar. Oltre ai vestiti, il protagonista decide di donare il terreno di famiglia ad un'associazione di bambini meno fortunati. Durante i lavori, un bulldozer ha portato alla luce una valigia piena di soldi sotto gli occhi stupiti di Gaffur. Anche Beis è sulla scena per essere rilasciato. A questo punto, la donna di colore proverà a ritirare Il. Portafoglio e affermerà che i soldi appartengono alla sua famiglia poiché questa è l'eredità che Ilmas ha lasciato a Muigan e Chiere Mali. Tuttavia, alcuni funzionari avrebbero impedito a Beis di saccheggiare poiché la terra ora apparteneva allo Stato, informandolo che l'unica persona che poteva rivendicarli era Zulia. Zulia non vuole dare soldi a Muigan. La moglie di Demir sembra disposta a rivendicare la proprietà del denaro da donare a Muigan e quindi a Chiere Mali, ma non cambierà idea all'ultimo minuto. Infatti, Zulia non vorrebbe i soldi nelle mani di Beis dopo aver scoperto che sua nipote aveva ordinato a Gulten e Cetin di abbandonare la vecchia casa di Sermin. Le scoperte faranno decidere al protagonista di ritirarsi dal caso.